Abbiamo effettuato la traversata dalla Scozia all'Irlanda a bordo di un enorme stupendo catamarano, tutto in alluminio, azionato da quattro idrogetti mossi da altrettanti gruppi turbogas. Silenziosissimo e velocissimo, che ha coperto la distanza di oltre 100 chilometri che separa la Scozia dall'Irlanda, in meno di due ore viaggiando alla velocità di oltre 60 chilometri all'ora. Sorge spontanea la domanda, ma perché non abbiamo un collegamento simile anche noi con la Sardegna? Iniziamo il nostro tour dell'Irlanda ed in questo primo video visiteremo Belfast e le contee di Daun, Antrim e Londonderry, tutte appartenenti all'Ulster. Il Carrickfergus Castle è uno dei più antichi e grandi castelli irlandesi, situato sulla spiaggia dell'omonimo villaggio, per il resto pressoché insignificante. Costruito intorno al 1180 dagli invasori inglesi su un promontorio roccioso affacciato sul porto, per controllare l'accesso al Golfo di Belfast. La fortezza è stata presidiata ininterrottamente per circa 750 anni, fino al 1928, quando la sua proprietà è stata trasferita dalla British Army al nuovo governo del Nord Irlanda. Oggi il castello è stato restaurato ed è possibile visitarlo. Ospita spesso delle mostre che ripercorrono la vita nel Medioevo. Belfast è la città più importante dell'Irlanda del Nord. Ricca di storia, monumenti e musei, è una tappa fondamentale di un viaggio nell'Ulster. Belfast è una città portuale legata alla sua tradizione navale. Belfast è tutta l'Irlanda del Nord appartengono, al Regno Unito e lo si capisce subito dalle bandiere inglesi che sventolano ovunque. Essendo una città dalle dimensioni contenute, è perfetta per un weekend dedicato non solo alle attrazioni da visitare, ma soprattutto all'atmosfera da vivere e da gustare. Partendo dai cantieri navali e dal Titanic Belfast, che racconta i tragici eventi del transatlantico più tristemente famoso della storia, costruito proprio a Belfast. Merita visitare il Belfast City Hall, il municipio risalente all'epoca della rivoluzione industriale. Altra attrazione è fare il giro dei murales più significativi che tappezzano i quartieri popolari e che ricordano il recente passato turbolento della città. La Grey Abbey sono i resti di una abbazia cistercense, fondata nel XII secolo dalla moglie del lord della contea di Belfast presso l'omonimo villaggio, Grey Abbey. Che proprio dalla chiesa prende il nome. Immersa in un quadro idilliaco tra corsi d'acqua e verdi prati, la chiesa e il convento sono imponenti. Alcune parti, come l'entrata ovest, sono ben conservate, i monaci che ci vivevano erano autonomi e coltivavano la terra raccogliendo e vendendo le erbe medicinali del loro giardino. La baia turchese di Fered vi abbaglia per i colori contrastanti del verde luccicante con il blu profondo, i campi improvvisamente lasciano il posto alle aspre cime delle scogliere. La costa della contea di Antrim è ricchissima di tanti luoghi indimenticabili. Una delle passeggiate più suggestive è quella che dalla Mulaff Bay porta a Fered, le scogliere. Dai loro 200 metri di altezza, consentono di spaziare la vista sempre più lontano, fino ad arrivare alle coste della Scozia. Queste terre sferzate dal vento furono fino al 1600 contese proprio da un clan scozzese, i McDonald. Un panorama che non potrà lasciare indifferenti. Soprattutto in quelle giornate terse e ventose che rendono colori, luci e profumi indimenticabili. La passeggiata dura circa 45 minuti e richiede scarponi e vestiti impermeabili, per far fronte ad acquazzoni improvvisi. Piccoli sforzi da superare per rimanere a bocca aperta guardando questi giganti a picco sul mare, mentre le onde si susseguono veloci per lambirli. Murlaff Bay è considerata una delle baie più belle lungo la costa di Antrim, eppure non è molto frequentata dai turisti. Il motivo è ovvio. Infatti la baia può essere raggiunta solo attraverso una strada litoranea stretta e poco frequentata, la Tor Ed Sinic Route. La baia è uno dei luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato. La strada, sconsigliata ai camper, attraversa prima i prati con le pecore che pascolano liberamente, poi scende ripida verso la costa. Dietro ogni curva la vista sul mare diventa più spettacolare. A sinistra, il suggestivo ferhead domina lo scenario. Quando si arriva in fondo alla baia, non ci sono le parole giuste per descrivere lo spettacolo della natura. Alberi secolari e nodosi fiancheggiano il sentiero. Al centro si trova una piccola formazione rocciosa. A nord si raggiungono i resti di un insediamento un tempo abitato da minatori che qui estraevano il carbone. Tor Ed è un famoso promontorio frastagliato, che sporge dalla costa settentrionale dell'Irlanda. Un altro luogo unico e meraviglioso. Tor Ed non offre negozi o strutture. Ciò che si può trovare sono solo mandri al pascolo e antichi cumuli di pietra. Capo Tor, nelle giornate limpide, permette di avere delle prospettive uniche. Si arriva a vedere in maniera nitida e inconfondibile persino la Scozia. Soltanto circa 20 chilometri separano le due nazioni. Si arriva a questo promontorio percorrendo la Tor Ed Sinic Route. Probabilmente la più bella o una delle più belle strade d'Irlanda. Stretta si estende lungo la costa ondulata della contea di Antrim, regalando un'avventura che consigliamo di non perdere. La Sinic Route si imbocca a pochi chilometri a est di Balli Castle. Non adatta alle roulotte e nemmeno a chi è troppo ansioso o soffre di cuore. Kimban e Ed merita una deviazione per due motivi. Primo per il suo castello in rovina, piuttosto sconosciuto ai turisti, ma anche per il suo promontorio roccioso, che permette di affacciarsi sul mare. Il nome Kimbane significa testa bianca e si riferisce alla pietra calcarea bianca su cui sorge il castello. Il castello di Kimbane, infatti, poggia su uno stretto promontorio calcareo che si estende nel mare. Il castello è un po' fuori mano ma le viste sono sbalorditive. Il castello ora è poco più di una singola torre in rovina. Ma vale la pena percorrere la strada anche solo per ammirare il paesaggio. L'accesso a Kimbane Ed è gratuito e piuttosto facile. Tuttavia, non esitate a coprirvi bene. Il posto è ventoso e umido qualunque sia il periodo. Il sentiero segnalato conduce alle rovine del castello di Kimbane, e quindi al promontorio. Il sentiero si restringe menmano che si procede. E non è proprio del tutto sicuro. Alla fine però si gode di una splendida vista sull'oceano e sugli scogli, costantemente spazzati dalle onde. Il ponte di corda di Carrick Arede, collega Carrick Island e la terraferma della contea di Antrim da oltre 250 anni. Ondeggiare a 30 metri di altezza sull'oceano potrebbe non sembrare il modo più rilassante per affrontare questo percorso di 20 metri, ma le cose sono cambiate. Affrontare Carrick Arede potrebbe sembrare un'impresa coraggiosa. Ma in realtà non lo è, almeno ai tempi nostri. Negli anni 70, questo attraversamento prevedeva solo un corrimano e qualche asse in legno distante l'una dall'altra. Oggi, sebbene questo ponte robusto continui a oscillare, quanto basta per farti provare un brivido, sei in mani decisamente più sicure. È ovvio chiedere, perché esiste questo ponte? L'epoca dei pescatori sull'isola è finita nel 2002. Negli ultimi anni, il ponte è diventato uno dei luoghi di maggiore attrazione della Cosway Coastal Route, che collega Belfast a London Derry. Nei weekend estivi occorre fare code enormi per attendere il proprio turno e attraversare il ponte, il cui flusso è rigorosamente controllato, massimo 5 persone alla volta. Le Giants Cosway, il selciato dei giganti, è in assoluto uno dei luoghi più magici e originali d'Irlanda. 40.000 antichissime colonne di basalto esagonali che emergono dal mare in stranissime composizioni, sulla costa battuta dal vento e dalle onde. Questa incredibile formazione rocciosa è talmente suggestiva e preziosa dal punto di vista naturalistico da essere dichiarata patrimonio dell'UNESCO dal 1986. La leggenda narra che un guerriero gigante dell'Ulster si fosse innamorato perdutamente di una gigantessa che viveva sull'isola scozzese di Staffa e che, per raggiungerla, avesse costruito con le sue possenti mani una strada di pietra. In realtà queste pietre così uniche sono il risultato di un'esplosione sotterranea risalente a 60 milioni di anni fa che si estese dalla Cosway fino all'isola di Staffa. Un'immensa massa di basalto che in superficie raffreddandosi si solidificò in forme così regolari. La visita di questo splendido sito naturalistico è abbastanza lunga. Soprattutto se decidete di intraprendere il percorso circolare, calcolare dalle 2 alle 3 ore. Consiglio di percorrere il sentiero alto che segue il profilo delle scogliere e che ridiscende al mare grazie a una ripida scalinata di 162 gradini da cui si gode una vista spettacolare sul panorama, sottostante. Il cammino prosegue nella parte bassa e qui si può ammirare, il Giant's Organ, un insieme di colonne di basalto alte ben 12 metri. La famosa distesa di blocchi esagonali è chiamata anche l'alveare. La visita di questa meraviglia naturalistica è libera, quindi occorre prestare attenzione alla sicurezza durante il percorso. Il vento è quasi sempre molto forte e intenso. Questo provoca un ulteriore rischio perché fa cambiare rapidamente le condizioni atmosferiche. Lo spettacolare castello di Danluce Kessel, di origini scozzesi, aggrappato a uno sperone di roccia, sembra sfidare la forza distruttrice del mare e degli elementi. La costa di Antrim è profondamente connessa alla storia e alle tradizioni scozzesi. Per noi che abbiamo appena visitato la Scozia, ecco apparire un déjà vu. Come per incanto ci sembra di essere riapprodati sulla costa scozzese. Infatti questo spettacolare castello ricorda molto da vicino i possenti manieri della terra scozzese. Il Danluce Kessel si aggrappa coraggiosamente a un brandello di roccia, a picco su un mare scuro e burrascoso, con alle spalle prati di un verde accecante. La bellezza di questo castello ormai in rovina è indiscutibile. L'articolata costruzione sembra sfidare la logica e la gravità. Appesa come per disperazione alle rocce friabili ed erose dal vento e dalla forza distruttrice del mare, che già nel corso dei secoli, si è portato via un'intera porzione del castello. Attraversando il ponte di accesso sembra di tornare indietro nel tempo e di sentire il vociare concitato degli abitanti. Le stanze ormai prive di tetto sono in balia degli elementi. Ma conservano un fascino assolutamente unico. Portrush è una piccola località balneare al confine con la città di London Derry. La parte principale di Portrush, si trova concentrata lungo l'area del porto. Affollata proprio per la sua vita notturna durante l'alta stagione, dai numerosi turisti. A rendere prestigiosa Portrush sono i campi da golf e le spiagge sabbiose. Ce ne sono due in particolare note come occidente e oriente. La White Rocks e la Curran Strand caratterizzano la costa che prosegue fino al Danluce che è sole alle Giants Causeway. Portrush è una cittadina turistica che accoglie un alto numero di persone, sia durante il periodo estivo per la stagione balneare, sia durante l'inverno per trascorrere la serata in discoteca. Il tempio di Musenden svetta sulla spiaggia di Downhill. È un posto incantevole, spesso scelto per unirsi in matrimonio da turisti e locali. La costa è davvero suggestiva. Con spiagge e scogliere che regalano un'atmosfera magica. Si tratta di un piccolo monumento a pianta circolare. Quello che contraddistingue questo posto è la sua collocazione. Si trova nella zona nord-occidentale della regione, dove la costa è formata da scogliere di basalto a picco sull'oceano atlantico. Il tempio di Musenden è aperto al pubblico e visitabile tutto l'anno gratuitamente. La città ha vissuto una storia turbolenta e sanguinosa, ed è diventata tristemente nota per le violente traversie all'epoca delle tensioni fra la popolazione cattolica e quella protestante. A dispetto della sua triste storia, Derry è una cittadina suggestiva con le sue case color pastello, le guglie delle chiese e le ripide stradine del centro storico. Negli ultimi decenni si è molto rivitalizzata e i turisti possono ammirare una grande quantità di murales che rievocano i momenti più tesi degli anni passati. Londonderry è stata la nostra ultima tappa nell'Ulster. Attraverseremo il vicino confine con la Repubblica Irlandese, confine quasi imbalicabile qualche decennio fa per le tensioni tra i due stati. I paesaggi e le coste della Repubblica Irlandese saranno oggetto dei prossimi video.